buongiorno a tutti ragazzi e ragazze ed eccomi ritornata in questo nuovo video buon inizio settimana e oggi parleremo di uomini e donne ma soprattutto di una foto che sta circolando sul web dello storico opinionista Gianni Sperti il suo look completamente stravolto lo guardiamo ora ve lo mostro in questa foto e poi se volete lo commentiamo insieme nei commenti eccolo qui biondo platino Gianni Sperti si è fatto proprio così l'ex marito di Paola Barare è quasi irriconoscibile però Gianni è riuscito a spiegare sul suo profilo TikTok il motivo del suo simile cambiamento e infatti scrive cambiare sono sempre stato una persona così camaleontico mi dicono ogni tanto devo cambiare mi annoia vedere sempre la stessa immagine allo specchio quindi Gianni dice ho bisogno di novità come i traslochi amo cambiare casa arredamento perché mi sembra di iniziare un nuovo capitolo della mia vita quindi morale della favola cioè Gianni sta bene così cambiando e ovviamente ragazzi posso già annunciarvi che sotto proprio il post sono arrivati tantissimi commenti negativi Gianni biondo platino a molte persone non piace ma ovviamente deve piacere a lui quindi se sta bene lui così poco importa a noi voi che dite ovviamente un parere senza essere maleducati si può anche esprimere quindi io vi aspetto nei commenti se volete potete commentare il nuovo look di Gianni Sperti che ci aspetterà sicuramente a settembre con una nuova scoppiottante edizione di uomini e donne voi continuate a seguirmi quindi iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto lasciatemi un like e di supporto e io vi aspetto come sempre con tanti altri prossimi video vi auguro un buon inizio settimana da Angela da tutto al web